Non lo vuoi tre, siete una buona guardia. No, siamo già in giro. Siamo da squadri. Domani siamo in 30. Eccoli qui gli alpini guardiani di Montebello Vicentino, i Vecci, rimasti al campo da rugby di Treviso, mentre gli altri, i Boccia, sono in giro a divertirsi. Nell'attesa ci facciamo raccontare il loro campo. Qua c'è l'apparto noto, diciamo. Adesso devono ancora sistemare. Qui invece abbiamo la sala, la pranzo, tanto per dire qualcosa. E là siamo noi due, noi tre, che dormiamo in campo, pertanto perché più anziani ero. La voglia di esserci è sempre grande, anche se c'è forte preoccupazione per il futuro del corpo alpino. Gli alpini ci sono dappertutto. Ci erano, sono e saranno sempre i migliori. Sì, saranno in vita i vecchi, perché non così rimpiarsi, nel senso che i giovani, che ne pochi, e ne ho ancora pochi giovani che fanno i migliori. Almeno sei mesi all'anno. Invece tra qualche anno... Specialmente per l'educazione, che tante famiglie non le fanno ai giovani d'oggi. E i campanilismi, questa volta, li lasciamo a casa, soprattutto pensando alla storia. Se la Vicenza era meglio? È sempre la zona buona. Benito va bene dappertutto. Qui siamo in zona piave, è giusto che sia su questa zona che non fa Vicenza. Grazie.